Io merito di essere chiamata con il mio nome, non per come sono. Tutto parte dal progetto che si è svolto a febbraio presso l'educandato statale Maria Delaide, il progetto diritto alla salute, parliamone appunto con Operation Smile. A partire da questo progetto molti ragazzi hanno manifestato il desiderio di diventare volontari ed ecco che di nuovo ci siamo messi in contatto, siamo entrati in contatto con la fondazione di Roma e abbiamo dato l'avvio a questo percorso di formazione che vedrà i ragazzi partecipi in prima persona anche con iniziative sul territorio. Siamo oggi qui a Palermo per poter appunto incontrare e formare in qualche modo i ragazzi dell'educandato Maria Delaide per dargli appunto quegli strumenti in modo che possano realizzare i loro sogni, le loro iniziative a favore della fondazione Operation Smile. I giovani sono il futuro del mondo e noi crediamo molto in loro e per questo che noi pensiamo che sia molto importante formarli e sensibilizzare in modo che loro si avvicinino al volontariato da questa giovane età. Oggi siamo qui all'educandato Maria Delaide di Palermo per una formazione ai ragazzi di prima, seconda e terza media che hanno espresso il desiderio di diventare volontari della fondazione Operation Smile e quindi insomma di iniziare il progetto Student Programs che è proprio rivolto a studenti per dare loro gli strumenti per iniziare delle attività di sensibilizzazione in favore appunto della fondazione.